Tag Oyer Monaco, l'orologio da polso che ha fatto la storia. Il Tag Oyer Monaco è riconoscibile al primo sguardo grazie al suo design quadrato audace. Questa caratteristica unica infrangeva gli schemi tradizionali dell'orologeria quando fu introdotta nel 1969, rendendo il Tag Oyer Monaco una scelta distintiva per coloro che cercavano un look non convenzionale. Il suo nome richiama nella perfezione le corse automobilistiche, infatti, Monaco è un omaggio al famoso Gran Premio di Formula 1 nel Principato di Monaco. Il quadrante presenta un design pulito e moderno, con due contatori cronografici e una finestrella per la data. I colori predominanti sono il blu e il bianco, con tocchi di rosso e arancione che aggiungono vivacità. Il cinturino è in pelle o in acciaio, a seconda delle preferenze personali. Il Tag Oyer Monaco non è solo un accessorio funzionale, ma anche un'icona di stile. La sua presenza in film, eventi sportivi e contesti di alto profilo ha contribuito a catturare l'immaginazione di molte persone. Il Tag Oyer Monaco è stato uno dei primi orologi al mondo ad avere un movimento cronografico automatico, chiamato Calibre Unici. Per realizzarlo Oyer collaborò con Breitling e Hamilton riuscendo a battere sul tempo sia Seiko che Zenit entrambe impiegate in un progetto simile. Questo significa che l'orologio si ricarica con il movimento del polso, senza bisogno di una carica manuale. Il Calibre Unici ha anche una riserva di carica di 40 ore, garantendo una precisione e una affidabilità eccezionali. Il Tag Oyer Monaco ha anche una cassa impermeabile, che lo protegge dall'acqua fino a una profondità di 100 metri. Questa caratteristica era una vera novità per un orologio quadrato, che solitamente era più vulnerabile all'umidità. Il Tag Oyer Monaco ha quindi dimostrato di essere un orologio resistente e versatile, adatto a ogni occasione. Se cerchi un orologio da polso che unisca eleganza, storia e innovazione, il Tag Oyer Monaco è la scelta perfetta per te.